Ciao a tutti. È stata una settimana importante e molto intensa. Siamo al lavoro su due fronti decisivi per il futuro del Paese. In questi giorni infatti abbiamo eletto i Presidenti e gli uffici di Presidenza della Camera e del Senato. Come sapete è stato eletto Presidente della Camera Roberto Fico con oltre i due terzi dei voti dell'Aula, un risultato di cui siamo molto orgogliosi anche perché il primo gesto di Roberto da Presidente, come aveva promesso nel suo discorso di insediamento, è stato di rinunciare alla sua indennità di oltre 4.000 euro al mese, una cosa che nessuno prima di lui aveva mai fatto. Il Parlamento, grazie a questa iniziativa, non è più il simbolo della casta, ma è diventato finalmente il segno tangibile dell'inizio della Terza Repubblica, la Repubblica dei Cittadini. Nel Consiglio di Presidenza del Senato abbiamo Paola Taverna, che ora è Vice Presidente del Senato della Repubblica. Laura Bottici è stata riconfermata questore e abbiamo eletto quattro segretari, Gianluca Castaldi, Michela Montevecchi, Sergio Puglia e Giuseppe Pisani. Nell'ufficio di Presidenza alla Camera, invece, oltre al Presidente Roberto Fico, abbiamo eletto Maria Edera Spadoni, Vice Presidente della Camera dei Deputati, Riccardo Fraccaro, questore e quattro segretari, Azzurra Cancelleri, Carlo Sibilia, Mirella Liuzzi e Vincenzo Spadafora. Questi incarichi istituzionali per noi non rappresentano poltrone, visto che tutti i nostri rinunceranno al doppio stipendio, all'auto blu, alle spese di rappresentanza, al vitalizio e a tutti i privilegi che derivano da queste cariche. Per noi rappresentano la componente decisiva di parlamentari che all'interno degli uffici di Presidenza ci permetterà di abolire i vitalizi e eliminare gli sprechi. Pensate per esempio che il questore è colui che vigila sulle spese dei due rami del Parlamento, in pratica è colui che tiene i cordoni della borsa. Pensate che solo la Camera dei Deputati ci costa ogni anno circa un miliardo di euro. In questi cinque anni io come Vice Presidente e insieme a Riccardo Fraccaro come segretario abbiamo lavorato tantissimo sui tagli agli sprechi, ottenendo i primi risultati come il taglio degli affitti d'oro, delle spese di viaggio agli ex parlamentari e della polizia assicurativa dei parlamentari dalle punture d'insetto e dalle insolazioni. Pensate che abbiamo raggiunto questi risultati quando eravamo solo io e Riccardo. Ora in ufficio di Presidenza della Camera abbiamo sei componenti più il Presidente della Camera Roberto Fico. Per questo sono più che sicuro che in questa legislatura raccoglieremo i frutti del lavoro di questi anni e completeremo finalmente l'opera. Voglio fare quindi i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i nostri parlamentari che saranno chiamati a questo compito e vi aggiorneranno passo passo su quello che succederà sui tagli agli sprechi e ai costi della politica. Parallelamente ci stiamo preparando alle consultazioni con il Presidente della Repubblica che si terranno la settimana prossima a partire da mercoledì. Noi prima di presentarci dal Presidente Mattarella abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto per sapere prima di tutto se ci siano convergenze sui temi importanti del Paese e posso dirvi che ci sono sia a destra che a sinistra. Ce lo aspettavamo perché le idee che portiamo avanti sono di buon senso e non hanno etichette ideologiche. L'unico gruppo politico che finora si è sottratto completamente al confronto sui temi è stato il Partito Democratico che sta ancora portando avanti la linea di porsi come freno al cambiamento, quello che i cittadini hanno chiesto con il loro voto del 4 marzo. Ma noi continueremo a dimostrare maturità e responsabilità come abbiamo fatto con la scelta di rinunciare ad eleggere due vicepresidenti, uno alla Camera e uno al Senato, che quindi sono andati al Partito Democratico e anche a loro auguro buon lavoro. Non ci interessano le poltrone ma le soluzioni che aspettiamo da 30 anni e che possono finalmente migliorare la vita degli italiani. Le soluzioni, i temi sono la nostra priorità. Poi, come ho sempre detto, della composizione del Governo e quindi dei Ministri si parlerà direttamente con il Presidente Mattarella, come è giusto che sia. Negli ultimi giorni si è parlato anche di chi vuole fare il Premier, di chi vuole farlo, di chi tira fuori Premier dal cilindro. Pensate che si è fatto pure il nome del direttore del Tg La Sette Mentana, ma sono sicuro che rifiuterà perché in conflitto di interessi con le sue epiche maratone. Ma scherzi a parte, la mia posizione è molto semplice. Basta Premier non votati da nessuno o ancora peggio Premier che hanno perso. Per il resto parlano i numeri. Il Movimento, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e il PD hanno tutti proposto agli italiani un candidato Premier. Quello del Movimento, ossia il sottoscritto, è stato votato da 11 milioni di italiani, quasi il doppio del secondo più votato, con oltre il 32% dei consensi. Per cui il mio obiettivo è garantire che la volontà popolare venga rispettata. La strada è tracciata, la settimana prossima sarà importantissima e vi prego di continuare a sostenerci e a starci vicino. Ne approfitto anche per fare a tutti voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri di buona Pasqua. A presto, ciao a tutti. Grazie a tutti.